e allora buongiorno amici di cibi viaggi oggi siamo con salvatore allora ciao salvatore io so che sei stato in vacanza ad aquila resort e ti vorrei fare giusto qualche domanda come ti sei trovato qui in villaggio allora il villaggio è stato perfetto pulito animazione perfetta cordialità al cento per cento ragazzi venite consiglieresti cibi viaggi a qualche amico consiglio anzi l'ho già fatto la mia sorella già l'ho consigliato invece vogliamo parlare un po dei servizi del villaggio come si è trovato cose trovate cosa si potrebbe magari anche migliorare per qualsiasi difetto c'è stato lo hanno risolto subito quindi non c'è niente da dire e poi l'animazione c'è simone facciamo un saluto insieme ciao allora raggi